Oggi siamo alla seconda giornata, è venerdì, abbiamo 1500 persone che girano per il Palazzo dei Congressi nelle varie sessioni, abbiamo la sessione clinica, la sessione tecnica e poi dei corsi paralleli, un corso di protesi mobile, un corso di management e il corso IOP Young, tutte sale piene, ci sono persone in piedi, in Sala Italia specialmente, il corso per odontotecnici è veramente pieno, ci sono anche molti clinici grazie alla presenza tra i relatori del Dottor Carnevale, del Dottor Calesini e degli importantissimi tecnici, abbiamo Alvin Schoenenberger, abbiamo Antonello Di Felice, abbiamo Luc Rutten che domani relazionerà anche in Sala Europa in sessione comune.